Chianciare le bambotte, le rocce! Chianciare le bambule! Chianciare le bambule! Poi non lo vengono! Chianciare le bambule! Chianciare le bambule di cuore! Chianciare le bambule? ma fuori come c'è chiudato puterà di al tato ma dai poti e lonti e lonti e lonti di più di più di più è benissimo adesso lo mettevo pure nella nostra storia quindi potete andare a cercare la pagina dei respinti su instagram ma è una leggera bruttella quando appena dico mi siete divertiti siiii anche se non mi siete divertiti questi tazzo non so se quanta vado lonti 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 questa sera eravamo lasciata insieme ai partiti ciao lonti grazie